Ragazzuole, eccomi, non sono sparita, vi stavo leggendo, però ieri non sono stata benissimo, quindi vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari, eccetera. Adesso sono ancora qui all'ospedale, devo stare qui un paio di giorni, che devo fare ancora un po' di controlli, però ecco, non vi preoccupate, la mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto tutte le ecografie, tutto, lei è lì bella, tranquilla e serena, sta bene. E' semplicemente il mio rene che mi sta facendo disperare, già qualche settimana fa, non so se vi ricordate, ero venuta qui all'ospedale perché avevo questo fastidio, questa fitta perenne al fianco destro, però ecco, giorno dopo giorno mi faceva sempre più male, ieri erano due notti che non riuscivo a dormire, ieri proprio un male terrificante, quindi ho detto faccio un'ecografia al rene, e alla fine, come immaginavo, c'è il rene destro parecchio infiammato, dilatato, e adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, che mi auguro di no, anche se sarebbe molto raro, infatti è proprio l'ultima ipotesi, perché essendo così giovane mi hanno detto che comunque sono rari i calcoli renali, però ecco, la rottura è che proprio non puoi fare nulla in gravidanza con i calcoli, quindi speriamo di no. Coliche, coliche che probabilmente sono coliche renali, e anche se sono molto dolorose e fastidiose, però si possono curare in una decina di giorni con tutte le cure necessarie, eccetera, e se no anche una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine, non lo so, adesso sono qui, in questo posto meraviglioso, io aspetto e aspetto, vediamo, voi come state? Amore, ho preso anche un letto in più? Eh, ho visto. Per te? Per te, se te lo stavi chiedendo così puoi dormire qui, possiamo stare insieme, puoi cenare qui? Va bene, ma no, ma... Pensavi di andare a casa ad un certo punto? No, dormo qua. Ma no, ovvio, cioè non hai scelta. Ma io, eh, pure tutte elettrime. E certo, stai qui? Vedi, tv, brodino, tra poco ci arriva brodino. Allora, già sta. No, per uno, adesso l'ordino anche per te. No, per uno, adesso l'ordino anche per te.